cari videogiocatori e cari videogiocatrici ma ben ritrovati ancora qui su control per la dodicesima parte allora avevo appena battuto quel mostro di dimensioni titaniche io direi di fare un'altra mission cina io andrei magari dalla dottoressa perché ce ne ho ancora cinque in corso sono missione 5 no che ne ho cinque in corso zero la quinta questa qua vecchie controlla i progressi just moment con te ho già parlato devo fare anche il jukebox questa sarà una puntata se tutte le missioni secondarie e la ci possa arrivare col volo si un punto abilità ricevuto luogo nascosto scoperto bene la missa che non ci arrivi e non cadere giù ma miseria e vola non volevo cadere giù sbagliato schiacciato tasto x invece di il cerchio e vabbè mille punti meno per me sta cavolata mi è costata mille più punti però se ho scoperto un luogo segreto allora avevo messo dalla dottoressa la dottoressa si trova in una zona abbastanza lontana vediamo se riesco a raggiungerla appostamento rapido non è nel contenimento non è qua dove era più la dottoressa ci sono aree che non ho mai visitato parapsicologia anche di là ce n'è di cose mai viste eviterei magari quest'area probabilmente in ricerche divisioni rituali vado un attimo lì poi bisognava andare giù di sotto in profondità l'ho sparata a caso è il luogo perché non me lo ricordo potrei sbagliarmi se sbaglio perdo solo tempo con questi caricamenti l'unico l'unica nota negativa e vabbè speriamo di averle azzeccato almeno più o meno la zona sono in un luogo no, non era qua ho sbagliato strada ho sbagliato strada qui posso entrarci tra l'altro bene non è poi così un errore grave perché comunque entro in nuove aree e mi sta anche bene ok, cos'è la lampada? la maglia accente cos'è sta roba? due pesci la lampadina è un fiore il fiore questo ha un significato quest'area schede oggetti fortunati cos'è un enigma? schede oggetti fortunati pesce coi di bronzo cina attrae ricchezza e benessere feng shui ferro di cavallo irlanda tiene lontano il male dettaglio sull'orientamento il tacco verso l'alto permette di mantenere la fortuna col tacco verso il basso la fortuna fuoriesce manekineko il gatto che chiama usato nei negozi la zampa in alto richiama i clienti portando fortuna al gestore dell'attività quadrifoglio irlanda sham rock rara variazione floreale legata ai rituali curativi dei druidi elefante cina protezione buona fortuna saggezza feng shui lampadine lampadina varie rituali di gioco documentano che la fortuna si genera quando tutte le luci della stanza sono accese nota effetto sugli oggetti da testare considerare lo studio dell'orientamento dei ferri di cavallo considerare inoltre il posizionamento degli oggetti nel feng shui la prossimità degli oggetti fortunati può influenzare la lettura della fortuna per maggiori informazioni sui rituali e le azioni fortunate da eseguire e da evitare e la rilevanza del comportamento degli oggetti consultare il nuovo documento 928.672 ha a che vedere con la fortuna tipo la luce accesa ha detto no? ah posso puntare? no attenzione allora ho seguito una guida per capire quello di nuovo qua perché non era tanto comprensibile allora bisogna accendere tutte le luci adesso vi spiego l'enigma come si fa che non era tanto comprensibile in realtà si si capiva qui che bisogna utilizzare le luci il quadrifoglio e il gai il pesce però il resto non era tanto comprensibile cosa andava bene e cosa no dicevo bisogna accendere tutte le quattro luci dovrebbe essere tutta accesa no? poi bisogna prendere il pesce che è laggiù ma un attimo adesso vi spiego questo deve stare girato così il gatto deve muoversi il quadrifoglio mi serve perché me lo devo portare dietro queste non devono muoversi da come ho capito devono stare ferme una è ferma poi c'è un'altra di là vicino all'elefantino ok ora prendiamo il pesce e me lo porto dietro il pesce va messo vicino al tappeto rosso vabbè ho buttato giù quello spingela magari se non ce ne se non ce la fai ok poi bisogna mettere il quadrifoglio qua dove era il quadrifoglio che dove andava non mi ricordo eccolo lì ok sto sfasciando tutto ma fa niente adesso dovrei dovrei girare vediamo un po' se sul set si dovrebbe uscire il set adesso da come ho capito e devo girare e poi uscire da qui per la fortuna e infatti preso avete visto ha funzionato questo sblocca dei punti e un abito così andava fatto questo pseudo enigma diciamo era una cosa opzionale per prendersi un abito va bene l'ho preso e ora me ne posso andare un problema risolto un problema in meno dal cartellone dal tabellone un po' si capiva ma non tutto uh ecco di qua posso andare uh mi sono fatto male posso andare giù questo non l'avevo preso sto arrivando dottoressa doctor è finito grazie grazie ingesta questa pill poi vai a trovare la source del molde solo lì possiamo iniziare a capire come dettare quindi ti prometti che non mi avrò andando a camminare copertato in molde la pillola evitare alcuna infezione biologica dal molde prendi una pillola perché c'è una dottore in hazmat che ti dice che ti dice buona idea Jesse dobbiamo fare schifo ah l'odore ah non è ancora finita forse sono accese queste qui provo pop ha hai lavorato con Emily pop 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 darling range trust to have coffee a meeting of the mines he called it she's talented I can certainly see her doing well here I feel like there's a butt coming but she's drunk a bit too much of the bureau's proverbial kool-aid she shouldn't be afraid to forge ahead on her own science is skepticism everything must be questioned before the truth can emerge eh sì punto sono non le ho mai fatto queste domande allora darling so is darling your boss if you insist on clinging to such outdated hierarchies then yes however I would argue that our fields are too dissimilar for one to manage the other of course darling would much prefer to find his own miracle solution to the bureau's fungal frustrations he always needs to be the hero passato il tuo passato so tell me again how you came to work at the bureau well like I said I was brought in as a special advisor a temporary position you see devo fare anche il jukebox I was employed here for a time straight out of university after a decade of admittedly fascinating work in threshold research and regulation I began to chafe under the bureaucracy I needed a change not that academia was so different and then the mold happened about four months ago yes since my departure from the bureau they hadn't been able to find my equal in threshold analysis darling and I had kept in touch over the years meeting at conferences and the like he called me and I booked a flight I've never been able to say no to a man with a dangerous alien biosphere I had to leave my post in the middle of turn but so be it so she's a professor that explains a lot ospiti della mufa the mold seems to be having some weird effects on things indeed even people are susceptible the fungus grows rapidly within the chest cavity killing the host luckily one must ingest the stalks to become infected don't eat the mold ok we've always cremated the infected bodies after autopsy but I believe there may be another stage of maturity a blooming if you will I never thought the word blooming would sound so horrible e voilà niente abbiamo finito thanks for the information my pleasure ma non è ancora finita no con lei appunto vecchie colture questa è la principale poi c'ho il jukebox e questi qua ce n'ho altre non lo so no una due tre quattro cin no cinque ce n'ho si allora il mio obiettivo è andare ancora più in profondità esiste una profondità maggiore di questa qua ok interessante non dovrebbe più danneggiarmi adesso in teoria nuova area va abbastanza schifo ah uccidi i nemici nel settore ricerca è quello che sto facendo la muffa non vale vero no direi di no è tutto profumo dai jesse cosa vuoi che sia ci farei l'abitudine piano piano ah c'era un documento non l'avevo visto ok già finito una cosa breve brevissima oh è lì i nemici ammuffiti sono pericolosi ok se gli sparo la testa schiattano subito un po' come gli zombie non so neanche dove caspita sto andando forse è tutto ah lo stesso giro ok si si allora devo andare di là ancora più in là di qua credo non si vede niente è normale ok un altro è lì manichini cosa ci fanno qui dei manichini là c'è un documento ah un altro niente non c'è nient'altro ah no si può andare ancora più giù posso andare ah si può ancora andare più giù e qui c'è una e qui c'è una boss fight uno tanto carino adesso lo vedrete il mostro muffa vedete quanto è bello eh no non vale così eh bari amico no 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 devi crepare male è stata una battaglia dura l'ultimo secondo ma ce l'ho fatta sono contento ritorna dalla dottoressa come salgo su? posso salire? la muffa è distrutta e vai battaglia tosta non lo nego e ma mi sa che non torno più su o forse si no come si torna su? eh ma non so più come salire la muffa è sconfitta ci sono tipo delle scale ah no c'è una porta una porta che non lo sapevo ah un punto di controllo vabbè allora beh era ovvio non potevo restare lì così forse qui c'è un altro documento registro di soglia mangiavano la muffa una battaglia tosta ma ce l'ho fatta la sono vista brutta non lo nego adesso torno dalla dottoressa per tornare dalla dottoressa devo vado qua e poi mi calo di sotto e vado da lei è stata una battaglia dura pensavo di fallire ancora pensavo di perdere contro quell'essere ok dottoressa sto arrivando per prendermi il mio bonus tra un po' si fa male Jesse ce l'ho fatta si ce l'ho fatta è stata dura ma ce l'ho fatta ho risolto il problema alla radice proprio letteralmente ancora grazie l'ha preso lo stesso un campione l'ho fatta ancora ancora c'è una razza non ho sentito a Steve o Andy per trovare la strza con gli altri questi hosti vagranti devono essere eradicati come possibile la strza può ancora essere sprappata c'è una idea dove si è stata i hosti che ho observato non sono una sprappata ecco i report che ho ricevuto ci saranno ieri andranno ieri andranno e fai dal giubox adesso vecchie colture fatto rimozione della muffa si non è ancora finita c'è finita ma non è finita multimedia ok ho tutto missioni missioni sempre 5 tra l'altro alla parapsicologia vabbè però adesso voglio andare a fare il giubox mi preme sarà altrettanto duro il giubox lo scopriremo povera jesse tutto a lei tocca tutto a lei deve fare ok qui vengono in questa festa adesso può volare quindi in teoria dovrebbe riuscire a salire fino in cima mi sa ancora di no che era ancora più in alto e vabbè allora mi allontano di qua e dimmelo subito tesoro no qui no calmi calmini non mi danno neanche il tempo di spostarmi che ok l'ascensore a sto punto va bene tutto settore esecutivo portami su oh me la stavo vedendo me l'ero quasi vista brutta la stavo vedendo brutta ok qui torno lì perfetto quello che volevo qui c'è il giubox magari prima mi conviene toccare qua abilità che cosa posso attivare altra vita energia energia danni da mischia danni da lancio forza scudo io voglio più salute forse ma anche ma si dargli la salute la salute aumentata forse un pochino dov'è il giubox era per qua il giubox boardroom no la boardroom c'è ovviamente la nostra pop io devo andare al giubox non è qui forse è di qua dove era il giubox prima l'avevo trovato subito ma adesso magari neanche lo trovo più ok qui c'è il rompiscatole qualcuno che vuole rompere le palle io non ce n'ho voglia e dai jesse non ti piantare lì please forse di qua forse era di qua il giubox era qua eccolo lì il bellissimo giubox salve è arrivato il momento di mettere il gettone chissà cosa succederà adesso music attenzione nuova area scopri cosa è successo la squadra di spedizione niente di buono secondo me questa area non la conosco non so che cosa aspettarmi qua area non mappata addirittura quindi potrei andare di qua o di là mappata mappata non mappata comunque c'è la mano umana no? Qui si vede che c'è stato un passaggio umano Non volevo cadere giù Vabbè Non lo so io provo ad andare di qua Poi potrei andare anche di là In realtà potrei andare ovunque Perché non so dove andare in realtà Stavano facendo esperimenti in questa zona Un posto strano Veramente Non so che cosa troverò qui Niente di buono immagino Come al solito Figurati se Jesse trova qualcosa di buono Mai E qui La formazione Un luogo all'aperto Stelle E come li cerchi Ah documenti Attraverso il portale López Deve si è andato in questa zona Ah quindi sono andati di qua Dici Di qua no invece Non lo so mi fido di te Jesse Anche perché di qua Non posso neanche andare E neanche di là Ma forse questo è utilizzabile Com'è Ah se mi hanno creato un passaggio Per fortuna la nostra Jesse Si è imparato a volare Esplora il sito per trovare la squadra di spedizione scomparsa Ok Vamos in explorations Mi perderò qualcosa qui Senz'altro Con tutto quello che c'è Comunque non vedo niente di utile Area non mappata Continua a dirmi Non la traccia la mappa Jesse Peccato E anche Come dire Non ci sono neanche nemici Fortunatamente Almeno da quel lato lì Qua giù Qui c'era uno E qui qualcosa Che cosa Sopra Ah i nemici Ho capito Eh purtroppo Vabbè Li ammazzerò tutti Tutti i nemici Da ammazzare Li ammazzo A me Unisciti a me Anche tutto Ok È solamente Un sopravvive In pratica Ho cambiato Arma Una nuova armetta Che è successo? Ma sono morta Parlo con Alice Ah ma c'ho altre Perché devo parlare Con Alice Ma ho fallito Ma non ho capito Che cosa è successo The fuck If they're in there And then we go around There you are Did you Did you find those rangers The formation I found them But it's not good news The Hiss got there first Lots of Ah Another dead team Jesus You know I should have seen this coming The formation It's got like a A pole to it Things just End up there I'm sure you saw All the junk From the bureau quindi era nato dovevo fallire per forza grazie mettere un dischio missione completata doveva andare proprio così non ho fallito missioni questa è la più importante collezionabili vediamo dov'è inconscio collettivo, vero? allora, inconscio collettivo l'inconscio collettivo viene definito come una forma di inconscio condivisa tra tutte le menti umane su questo fatto si basa il collegamento del sapere inconscio al nostro patrimonio ancestrale consultare il rapporto di Jung pagina 12-34 tramite questo inconscio collettivo attribuiamo involontariamente una serie di immagini e archetipi agli elementi delle nostre vite questi archetipi non sono mai fissi ma cambiano in parallelo con le nostre specie e culture questa credenza interiore sotto forma di immagini condivise da una popolazione enorme è cancellato nella creazione di oggetti alterati oggetti del potere l'enorme quantità di cancellato emanata è attratta verso la migliore rappresentazione di quell'immagine permeando un singolo oggetto con enormi quantità di cancellato in teoria i luoghi del potere possono essere verosimilmente formati da semplice potere di credenza collettiva fare riferimento al fascicolo 5-41 7.532 per il rapporto completo fascicoli caso jukebox ah questo qua jukebox 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 siccome è la viene la jukebox song master allora procedura di contenimento l'oggetto deve essere tenuto in un luogo sicuro nel settore esecutivo consultare l'ordine di sicurezza 239A la stanza deve essere sigillata prima dell'utilizzo per impedire il trasporto involontario del personale descrizione per utilità un jukebox degli anni 50 dalla song master entertainment ltd il jukebox contiene un solo disco intitolato a song of four dead others di cancellato quando il disco viene riprodotto chiunque si trova si trovi a portata d'orecchio viene traslocato per l'intera durata della riproduzione per l'intera durata della produzione ah ecco perché sono uscito è il tempo del disco forse i soggetti coinvolti nel primo incidente noto hanno segnalato di essere stati trasportati in una spiaggia tropicale magari fosse successo a noi eh Jesse la posizione esatta è sconosciuta quando l'oggetto è stato usato nella oldest house ha solo trasportato i soggetti in un'area localizzata nella soglia della cava dove siamo stati anche noi i ricercatori ritengono che la densità spaziale unica di tale luogo abbia comportato la presenza di tutto il materiale di transizione che gravita intorno alla sua posizione così come osservato con altri equipaggiamenti dell'agenzia anche la natura unica della oldest house potrebbe avere un effetto sull'oggetto stesso l'oggetto non è legato alcun individuo noto ogni tentativo di legarlo da parte del personale dell'agenzia si è trasformato in cancellato poi vabbè il multimedia il disco questo qua il rapporto sulla cava ah ok non me ne può dare altri ah possono cambiare anche gli abiti vero l'abito dorato che dite lo metto non l'avevo ancora messo è così più elegante la nostra Jesse creazione astrale gettoni gettoni da 3 magari per ora non li creo lasciamo così devo vecchi amici fuga di Langston rimozione della moffa facciamo ancora questa qui se riesco parapsicologia divisioni rituali centro di ricerche ok qui non c'è centro di ricerche io vorrei iniziarla ah ecco sono tutte sono tutte lì ho capito magari da potrei iniziare da divisioni rituali dal momento che è lì sì perché no tutto sommato non deve essere difficile fare questa missione ancora questa qui è dedicata tutta alle secondarie questa dodicesima puntata di control e qui dovrà esserci già loro no divisioni rituali dove sono i ragazzacci quanto pare non sono qua invece sì qualcosa c'è forse qui c'è qualcosa ah eccolo lì ma sono loro oh beccati questo ma non hanno la muffa è loro non so perché sto facendo questa inutile battaglia contro questi qua tu stai rompendo le palle tutto vicino alla parapsicologia vicino nella divisione rituale e sono nella divisione rituale sarà più avanti dove cavolo sono questi qua non credo qui dentro no allora loro sono qui come mi han detto ovviamente qua non c'è nessuno è il piano di sopra potrebbe anche essere di sopra sono io che magari ah potevo arrivarci qui di sopra non c'è niente non ha nessun senso giusto allora devo capire dove andare qui mi sa che non si passa vero no per niente ma dove sono le muffe non so dove andare e qui ah vuoi vedere che qua seguendo sta roba perché non c'era infatti c'è un ascensore posso capito adesso devo seguire infatti qua c'è qualcosa c'è anche un documento beh aiuta anche ad andare in zone nuove no corrispondenza allora Carla documento ricevuto grazie per il documento è stato d'aiuto l'ho archiviato nuovamente con la ricerca sulla roccia nera in caso ti serva di nuovo sì i video sono sempre interessanti mi aspetto che la disponibilità si riduca in futuro tuttavia la mia analisi su questa variante di roccia nera appena scoperta ha raggiunto un punto critico spero che tu possa occupartene darling sembra parecchio sotto pressione ultimamente sono sicuro che apprezzerebbe qualsiasi supporto tu gli possa dare riguardo alle analisi date fornite non ho altre domande grazie per la consegna rapida distinti saluti specialista ricerche dottoressa dottoressa Carla Vog federal control ok gli uomini ammuffiti saranno qui da qua qualche parte no sono proprio qua se ne vanno in giro io glielo impedirò ricerche archivi rituali ah ma sono in posti separati non sono tutti insieme ce n'è solo uno qua dov'è rituali sommario allora effetti tangibili dei rituali disordini ossessivo compulsivo accumulo compulsivo disordini ansiogeni mentre certe manifestazioni di queste condizioni sono semplicemente il risultato di malattie mentali certe volte gli individui stanno semplicemente eseguendo cancellato chiamati rituali il cancellato dei rituali può variare numerologia logica dei sogni perdita formule verbali azioni ripetute legami causali sono solo alcune delle procedure coinvolte alcuni rituali sono coerenti come tirare per tre volte la corda per accendere le luci quando si entra in un motel ma altri sono imprevedibili avevamo fatto tante volte quello del motel mentre la maggior parte delle persone si affida a piccoli rituali ogni giorno la grande maggioranza non capisce l'importanza dietro alle loro azioni evitare disastri accumulare fortuna o semplicemente trovare le chiavi perse sono il risultato di rituali giornalieri gli individui che riconoscono un significato più grande dietro queste azioni compulsive sono intrissecamente consce del mondo paranaturale e quando individuate andrebbero prese in considerazione per l'impiego presso l'agenzia fare riferimento al fascicolo cancellato per il rapporto completo dicevo mi sa che non sono tutti qui eh i nostri cari mostriciattoli sono da qualche altra parte spero di trovare anche gli altri mi basta seguire la muffa allora e qui ce n'è ancora in effetti deve essere qua da qualche parte è andato di qua ma non c'è fin lì è andato ah è salito su forse eccolo lì ok ti ho visto amico adesso inizia a capire eh tocco diventa buono in realtà non devi diventare buono devi solo morire t'ho voluto perculare un po' allora adesso devo uscire e trovare il terzo e poi andare nelle altre aree potrebbe essere ovunque fortuno e probabilità non è qua anzi si è qua invece è qui dentro è andato nei cessi questo gli scappava voilà e uno è libera l'altro chi è? ma che rompi palle nei massimi livelli fammi curare va arrivarci rapidamente è impossibile parapsicologia parapsicologia al centro di ricerche che vuoi calmo centro di ricerche di qua se ne è andato ma ha lasciato perdere alla fine forse devo andare giù per il centro di ricerche sì ma io non me ne frega niente di voi centro di ricerche sono già qui quindi i tizi rompi palle sono qui da qualche parte ignora tutto mia cara ecco qua questo è nel ban è andato qua giù ok eccolo ma dove sta andando aspetta no ma che fa lì con le braccia no ma si è buggato e io non la posso ammazzare se fa così ma porca miseria niente eh sì e in più c'è una missione secondaria che si è attivata bene allora tralasciando quel tipo rimbambito potrei provare ad andare di qua lo ignoro per adesso quello lì vado dagli altri oh che cosa vi devo dire non posso fare niente l'altro tizio dov'è l'altro furbacchione pensavo si fosse impiccato quello lì invece non stava levitando anche lui allora non riesco a trovare gli altri provo a tornare lì e vedere un po' se no amen oh qui ah no aspetta ah uno è andato là addirittura qui ok 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 eliminato come c'è finito lì non lo so neanch'io anche loro possono levitare a quanto pare allora uno era giù poi devo cercare l'ultimo e torniamo nei cessi almeno provaci speriamo che si sia risolto il bug ah infatti adesso va amico prima mi hai fatto perdere solo tempo ne manca uno dove sarà cerchiamo velocemente l'ultimo anche qui c'è un'area mai dove non sono mai stato ah è qui ho già trovato forse ah nei cessi anche te avete la passione per i cessi te lo butto in testa il cesso così e gli altri sono in parapsicologia parapsicologia che di là devo andare a fare una visita psicologica o psichiatrica no parapsicologica ecco qua parapsicologia qui quindi loro sono per qua qui da qualche parte ci saranno i miei amiconi questo l'avevo preso questo ce l'ho già stato qui c'è una leva non so ah no il coso se niente di che no ma non è qui il nostro amico muffoso è stato da qualche altra parte io continuo a cercare però mi sto già stufando quanto quanto c'ho ancora di tempo la 15 minuti ma preferisco fare questa ah l'ho visto uno non l'ho visto uno ho visto dove è andato uno qui forse l'altro di là sono tutti due andati su no uno è andato di qua sicuro è andato a giocare con le macchine ok uno è andato l'altro dovrebbe essere ah qui non c'erò mai stato documento scopo delle vasche non sono riuscito a leggere no no schiacciato in tempo dove stai scopo delle vasche parla Darling alcuni di voi erano curiosi su queste vasche di privazione sensoriale che ho fatto installare ho pensato di condividere delle informazioni sul fatto magari qualcuno di voi ha sentito parlare del dottor Yoshimi Tokui l'uomo dietro alle registrazioni sulla famosa terapia distrazionale apparentemente apparentemente le sue registrazioni vanno ben al di là della qualità meditativa di questi casi ma creano delle vere visioni allucinatorie in alcuni ascoltatori o così dicono i rapporti abbiamo portato queste vasche per testare le registrazioni del dottor Tokui inoltre potranno essere usate dallo staff per scaricare lo stress in un secondo momento penso che noi tutti potremmo beneficiare di un po' di tempo in uno spazio chiuso al buio vero? in caso di ulteriori domande venite pure nel mio ufficio sapete dove si trova il dottor è il dottor darling una di quelle dovrei andare dal dottore ma non sono ancora stato qui c'è un altro documento perfetto ah il dottor Tokui quello di prima il dottore il dottore reso conto dottor Yoshimi Tokui cittadino giapponese residente a Tokyo ha prodotto una serie di registrazioni audio di terapie distrazionali diventate particolarmente popolari in giro per il mondo a causa dell'improvviso successo assieme ai rapporti di cancellato intensi che accompagnano l'uso di questi nastri il personale del settore investigativo ha dovuto verificare il passato del dottor Tokui non abbiamo trovato incidenti nel suo passato con episodi alterati né prove di coinvolgimento con organizzazioni alterate tuttavia gli agenti hanno testimoniato un evento presunto cancellato mentre ascoltavano il dottor Tokui raccomandiamo che il team di ricerca ottenga una registrazione audio della voce del dottor Tokui ed effettui tutte le analisi necessarie in base ai ritrovamenti il settore investigativo deciderà i prossimi passi da intraprendere nei confronti del dottor Tokui oltre alla sua idoneità per il programma candidati primari fare riferimento al file 742 9633 per il rapporto completo ok allora uno abbiamo detto che era di qua l'altro invece mi sa che è andato di qua questo è andato su no non è andato si è andato su me ne frego di quelli lì io intendo eliminare solo il mufoso infatti è andato per qua in qualche parte ah hai ragione io lo cercavo vabbè ne resta uno che in teoria potrebbe essere ovunque mi sembra che lo avessi già visto non ho tempo non ho tempo per guardare queste cose no apri vè dai che ne resta soltanto uno di questi qua così me ne libero definitivamente di sti esseri allora come esco di qui non mi ricordo ah di qua dove è il diamine era l'ultimo eh ma che rompipalle gli altri potrebbero essere dappertutto no forse lassù è qua astral lab eh ma siete dei rompicu cucucu eh dei rompicakak devo andare di qua in pratica perché mi state praticamente rompendo le palle tutto il di ok è di qua è di qua eccolo l'ho letto addio ok posso parlare con la dottoressa però prima dovrei fare anche quell'altra missione vedo se riesco a farle tutte e due velocemente non lo so cosa ma ah i nodi ma no ma ho 10 minuti posso saltare secondo me posso evitare tutto dove è qua stavento rapido parlo con la dottoressa poi ci salutiamo perché sennò diventa lunga vai tranquillamente alle divisioni Jesse per me va benissimo anche così ok adesso vado di qua salgo in su e dovrei essere già lì più o meno voilà vado giù dalla dottoressa salve doctor sto arrivando spero che questa sia la nostra ultima visita e non debba più fare i favori lo sistemati lo sistemati eh sì ne avrai di cosa ne avrai di cosa e voilà non ho più nulla da dirti dottoressa addio devo andare a fare quell'altra ma sono stanco sinceramente la farò in una prossima puntata ma questa questa cosa l'ho anche completata non ho preso il mio premio però vedrò subito appena avrò raggiunto un punto di controllo mi va bene anche il qualsiasi cosa sono di bocca buona prenderò probabilmente l'ascensore andrò su qualcosa di simile mi basta andare via vado al piano di sopra settore esecutivo vai e non dovresti farmi i caricamenti così lunghi lunghissimi e voilà ok spero che questa dodicesima parte di control vi sia piaciuta io mi fermo qui perché se no diventerebbe troppo lunga magari metto un potenziamento non lo so un o energia o danni da mischia ma posso mettere qualsiasi cosa ma non lo so neanch'io ah si devo prendere la ricompensa ok presa accetterò questa poi la farò niente spero che questa dodicesima parte di control vi sia piaciuta lo ripeto lo sto ripetendo di nuovo e niente noi ci vediamo alla prossima dove andremo avanti si vedrà vi saluto al prossimo video come sempre ciao ciao